ed eccoci qui tornati turno 2 turno 2 interessante vedere green one uno dei miei giocatori preferiti a livello internazionale e sipa un altro giocatore ottimo sempre dalla community internazionale della vermin league quindi scontro interessantissimo bretonia fortissima lo sappiamo molto curioso di questa lista perché la vedo già particolare e poi abbiamo beastman che scelgono una strada larghissima con il core che sostanzialmente quello che conosciamo molto bene combo goblins squigert un po di aceri che possono essere utili tanta cav da cui gli rr broken task mob quindi quattro cav un cavallino da un lupacchiotto da schermaglia un hammer of gork probabilmente per il debuff può essere interessante e il night goblin warboss con il funghetto classico e in questo caso però abbiamo un orco sciomano con più 40 miliata che brain basta più 40 miliata probabilmente sulle cav per disintegrare quelle che sono le cav bretoniane ricordiamoci che qua non si possono portare i grail knight perché abbiamo gli ipogriffi con la fei e doppio paladino fei che si porta è dweller below non regrowth ok particolare favor of the fei e non il bombardamento quindi entrambi hanno più 40 miliata che l'occorrenza abbiamo tanti monte di eumann archer quindi sono già ben quattro in modo da avere gli aceri mobili interessante questi li della fama portano anche veleno questi stanno già venendo bersagliati dal dal hammer of gork in risposta bretonia deve sicuramente avanzare con la fronte di quattro paesani tre lanci dietro e poi tantissimi cavalieri del reame uno due tre si tre cav del reame quattro quindi interessante davvero la lista gli orchi sono forse fin troppo larghi rispetto a una lista del genere che è tanto mobile bretonia si porta subito sui lati modo da poter schermagliare in maniera più agevole soprattutto le cav una cav da schermaglia si è presa il funghetto al warboss ed è andata a rampage la fei cerca di andare ad aiutare ma a questo punto forse è un po tardi si infila in mezzo agli orchi borboys rischioso ma probabilmente è obbligo al commitment gli orchi qui i night of the realm sempre sul lato probabilmente vogliono fare un passaggio dal reto ma forse è fin troppo lungo qua la situa arrivano il royal hippogriff e altri cavalieri del reame per ingaggiare i broken task mob ok la fei voleva cazzare un duelless below che ancora una spalla ottima qui partono i goblin fanatici che però sui popolani sono un po sprecati vediamo se riusciano a prendere anche le cav no vengono gestite perfettamente le cav si sono riposizionate in maniera ottima viene gestita la prima cav degli orchi ogni cav fuori dagli orchi è un successo per per bretonia che non ha tutta sta gran fanteria come vedete gli orchi hanno deleghiato ritardato l'ingaggio con tutti quando invece le loro fanterie dovevano supportarsi specialmente in una lista molto mobile come quella che ha bretonia al momento gli ipogriffi vanno un po dove gli pare come loro solito qui sono arrivate anche i cavalieri del reame che verranno ricaricati da gli orchi ragazzi cavalcacinghiali ma c'è comunque la fei è qui da qualche parte dove sei ah ci sono i due paladini qui la fei la fei oddio la fei completamente in rotta aveva preso un sacco di schiaffi non ha un headblood quindi sarà molto difficile da utilizzare cioè non ha un regrowth quindi molto difficile da utilizzare quest'altro lato bretonia sta sicuramente perdendo da quest'altro lato finalmente gli orchi hanno incominciato a committarsi e si comincia a vedere la pesantezza della fanteria orchesca e soprattutto della cavalleria orchesca supportata in modo ottimo e i buff e debuff che possono creare sicuramente bretonia al momento ancora un po più di mobilità ma gli orchi possono comunque tenere presenza sulla mappa un po come vogliono guardate qui come questi broken task vanno in supporto degli altri cavallini e possono gestire questi cavalieri del ream soprattutto perché c'è una capa da schermaglia e tanti aceri allora sulla sinistra i cosi bretonia ha sicuramente avuto la meglio ma rimane ancora tanta mobilità qui probabilmente un dwellers avrebbe fatto comodo bretonia che si sta ritirando è riuscita a far pagare un prezzo altissimo agli orchi sulla loro front line che come sapete questa è una front line quasi usaggetta ingazza una volta poi esplode però ha fatto il suo nel senso che entrambi hanno perso parecchia roba e agli orchi rimangono ancora dagli orchi selvaggi l'importante è che la roba qua giù in fondo non ritorni perché potrebbe essere un grosso problema per per betonia dover riaffrontare quello che è comunque andato in rotta qua in fondo ovvero aceri orchi selvaggi tutto da quest'altro lato due cavi sono sopravvissute probabilmente bretonia aspetterà di tirare un dwellers i royal hippogriff è un peccato che non abbiano un bel regrout sopra sulla zucca i paladini vanno a supportare le paladini che se la fei a questo punto si tiene giustamente molto indietro bretonia deve dare il colpo secco decisivo adesso se vuole con cariche di cavalleria esatto ci infila in mezzo anche la feia adesso che è protetta comunque da dei paladini e dagli hippogriff in modo che possa fare da mortis engine su tutto quello che è rimasto vi vengono mandati a rampage i royal hippogriff immagino che la feia adesso tiri un earthblood tanto alla fine questo punto deve castare earthblood a nastro qui parte una spell degli orchi sul fondo c'è uno sconto da cav da schermaglia la roba degli orchi è tornata ma comunque i monte di eumen sono riusciti ad accompagnare fuori un po di roba dall'altro lato è rimasta un po di schifezzuola che combatte con tutta schifezzuola lo sconto importante è qui gli orchi devono resistere e anche se noto che non è rimasta molta roba per gestire gli hippogriff i hippogriff che adesso possono balzare da un punto all'altro a portare a mortis engine fei che sta per morire c'è una cav qui che la deve supportare perché la fei va in rotta è vero che è molto veloce quindi può può riuscire a scappare se va in linea retta e non c'è niente sì perché l'orco è sciamano sicuro non la può inseguire fei che ha 196 punti vita in seguito dagli squigg questi knight of the realm devono andarla a proteggere come anche questi monte di eumen che sono tornati hanno caricato gli alcieri ok diciamo che bretonia sul campo non se la sta passando male sta tornando un po di roba orchesca e anche bretonia sta incominciando a finire la benzina la fei sta per entrare in gittata degli orchi arcieri e potrebbe essere la volta buona che ci lascia peccato perché perde il mortis engine perde il più 40 attacco soprattutto gli earthblood che su questi hippogriff e sulla cavo avrebbero fatto decisamente bene forse abbastanza veloce no meno 24 credo che ci accompagnerà fino in fondo vediamo già meno 18 non credo che riuscirà a tornare anche perché gli alcieri vengono mandati a scottarla fuori a questo punto è tutto nelle mani degli hippogriff e di un paladino rimasto questo è un altro paladino che secondo me ci lascerà bisogna gestire gli aceri gestire l'ultima mobilità e poi si può fare bound da la fei è uscita sarebbero passati altri 100 metri la la in questo momento la lista bretoniana sicuramente meno spinta di tutta quella green skin un earthblood scusate un regrowth su questi hippogriff avrebbe sicuramente svoltato ma è che è vero che rimane un war boss con ancora il funghetti no i funghetti sono finiti quindi da quel punto di vista però c'è sicuramente il buff che dà più antilage e più danno a tutto qua i cavalieri cercano di accompagnare fuori quello che possono gli hippogriff vanno a caricare i poor boys con anche il supporto di un paladino che si girerà il paladino qua fa altrettanto diciamo che adesso bretonia se la deve prendere comoda in modo che magari qualche sua fantazza torni appena si alza un attimino la leadership vedete che come il fatto che sia andato in rotta il lord abbia sostanzialmente portato a una ritirata piena di di un sacco di fanterie bretoniane a questo punto quest'unità qui non contano più come ingaggio questo è tutto quello che è rimasto bretonia che deve andare ad ingaggiare sicuramente questi alceri qui in modo che non tornino il paladino non conta perché una single entities in campo mentre ci sono delle altre unità sicuramente qui vanno buttati sopra gli hippogriffi il paladino sicuramente si deve sacrificare quegli alcieri non devono sparare sulle cav qui abbiamo delle cav che se la devono vedere comunque con delle lanci che prendono un altro più 16 antilarge questi alcieri sono tornati come avevo predetto bisogna vedere se adesso gli hippogriffi riusciranno a fare terrore in generale è vero che qui adesso stanno combattendo sul buff ma devono riuscire a mandare in route con il terrore un pezzettino per volta degli orchi che a questo punto stanno tutti uniti con anche l'orco sciamano e il night goblin night goblin e orco sciamano che vanno ignorati per il momento va a gestire un'altra fanteria è un gioco di strategia adesso è un gioco di tempra di morale delle unità perché come vedete qui arrivano gli hippogriffi causano terrore arrivano le cavo arriva il paladino e tutto quello che non è nel bloc centrale cerca di accompagnarlo fuori il bretoniano per riportare un po' sulla barra del potere e soprattutto per fare in modo che il suo terrore sia più efficace qui lo vediamo come avviene qui ci riprova ma è troppo troppo tardi si è riuscita a ricompattare qualcosina il bretoniano torna e sta cercando di eh cisare fuori gli aceri questa unità di cavaliere del reame si si dà la fuga per la stanchezza probabilmente ritornerà e qui c'è la carica finale dove gli hippogriffi riescono a mandare in rotta due goblin due unità di goblin sta per andare in rotta anche il lorco selvaggio ma i due i due eroi sono ancora lì è vero che ci sono dei paladini che li possono affrontare ma senza un po' di fanteria a fare da da schermo a questo punto sicuramente bretonia deve accompagnare fuori le fanterie non rimanere lì a combattere gli eroi oppure può tentare di mandarli in route definitivo specialmente con la perdita del lord che è molto basso di vita dovrebbe riuscire a prendere danno è stato terrorizzato adesso basterà accompagnarlo fuori con un paladino la cavalleria si occupa dei goblin è tornato un'altra cav gli hippogriffi fanno lo stesso è rimasto solo l'orco sciamano orco sciamano che non è che possa fornire chissà quale supporto vediamo mamma mia come la ripresa per i capelli bretoniano comunque mamma mia il night goblin war boss è fuori e a questo punto sono tornati gli orchi selvaggi e i goblin ancora una volta ma il bretoniano con ancora gli hippogriffi con sette modelli se la può prendere abbastanza comoda butta dentro le cav e il paladino per prendere i primi danni poi arriva l'ippogriffo a portare terrore su questa fanteria che ormai hanno pochissimo morale qui il paladino si assicura che il night goblin non torni anche se non riesce ad attaccarlo guardate che schifo ecco una volta ogni tanto lo butta a terra non l'attacca e a questo punto è un ping pong su ogni roba che torni anche perché alla terza volta che va in route qui è molto il lord e a questo punto credo che ci sarà il masseroute appena questo orco sciamano viene caricato al paladino e dal resto vediamo a 19 16 vediamo se scenderà ancora ed è cc tirata sul filo del rasoio fino alla fine è stato molto tecnico in bretoniano alla fine la feia è un peccato forse non mi sarei portato il dweller avrei portato comunque un regrowth per gli hippogriffi che hanno fatto comunque 2000 value cavalieri del reama che sono ampiamente ripagati tranne uno che è stato scioccato veramente subito all'inizio le cav da schervaglia servivano più che alta ad impensierire ma non hanno fatto malissimo la chaff bretoniana ha fatto la chaff bretoniana e i paladini hanno fatto benino da parte degli orchi la lista non era fatto male ma mamma mia queste due cavo hanno fatto bene questa molto meno questa è sempre molto bene cavo orchesca che fa molto bene in questo match le fanteria hanno fatto altrettanto bene soprattutto grazie all'antilagio del night goblin warboss la catapulta non mi ha fatto impazzire ma probabilmente si aspettava arceri da parte del bretoniano le cav da schervaglia ottime arceri ma squig e goblin molto meno detto questo 1 a 0 per green one si va al secondo match secondo match che vede affrontarsi green one con gran katai contro si va con dark elf match che è abbastanza equilibrato non l'ho provato tantissimo dal buff sostanzialmente quindi dall'ultimo aggiornamento del dlc per katai ma katai si porta una lista abbastanza larga con comunque tanta mobilità si è portati jade lanceri lanceri di giada strano perché normalmente i cold one comunque ti possono fare abbastanza male sulle cavo anche se hanno armatura poi si è portati tanti popolani sulla backline 1 2 3 4 sulla front line solo 3 jade warrior e due alceri paesani prevalentemente per portare armonia con il celestian lion molto carino con la sua abilità anche di togliere 8 di leadership un astromante su carretto che ha celeste il cometa celestiale e fulmina celestiale sono sostanzialmente due spell della lore of even più ovviamente l'astromante dovrebbe avere delle spell a sua volta no porta semplicemente più venti della magia poi c'è l'alchimista che ha porta armonia young e la stance difensiva e poi troviamo zaoming con ovviamente il dragon spread quindi sostanzialmente tutto che deve pompare il dragon spread e non so sono curioso di vederla dall'altra parte abbiamo ovviamente i dark elf con una sorella del massacro e un'altra sorella del massacro ai fianchi al centro witch elves rischioso perché comunque non hanno armatura nello scudo prendono un sacco di danni dal tiro i knight of e bonclaw che sono la mia unità preferita dei dark elf non è eccezionale anche perché non fa molto di più rispetto a un cold one dread knight classico però sono belli da vedere costano un boato poi abbiamo un altro cold one knight quindi tre cav aggressive di cui due full ap un antilagio ap due cav leggere abbiamo la strega della morte con spirit alice e più una classico non ha molte cose su cui tirare più una e poi abbiamo elebron che dovrebbe portare frenzy boh sono curioso e blood frenzy dietro qua c'è un cavallino popolano che vediamo cosa farà allora katai deve sicuramente giocare aggressivo con le sue cav in modo da costringere il dark elf a non usarle in maniera difensiva su quello che gli pare tipo qui deve ritirarsi subito diciamo che la fanteria di katai può resistere un minimo e dietro comunque la backline assolutamente equipaggiata per gestire la cav pesante dei dark elf qui si apre un buco ma che verrà prontamente riempito dalla cav che è cav pesante quindi vince contro i dark riders gli aceri non devono far altro che portare armonia credo e si trasformerà in una mega rissa corpo a corpo il cavallino qui sicuramente è utile per accompagnare fuori qualcosina che va in route qui parte la prima spell dell'astromancer mamma mia porta via quasi metà vita il knight of ebonclaw e metà vita sicuro alle witch elves adesso questi cavalieri qui contro leone e jade warriors possono essere in difficoltà è vero che hanno un po' di supporto di qualche sorella del massacro infatti queste lance qui dovrebbero andare ad assisterle arriva la cav leggera come vedete a caricare le witch elves e accompagnarle fuori qui fa lo stesso jade lancer diciamo che katai sicuramente sul lato destro ha la situazione sotto controllo sul lato sinistro ha perso dei pezzi sicuro ma ha ancora qualche suo arciere che viene caricato non che queste accedi siano un problema ha ancora diverse single entities tra cui un carro che può fare bene con un'altra spell qua e infatti mi sa che la vedremo è decisamente sì questa è la spell non è zaoming quindi è il coso è stata lei ah sì con plague of rust e searing doom certo ha fatto sicuramente bene da quest'altro lato hanno vinto katai deve semplicemente gestire un attimo bene i dreadknight da quest'altra parte ci sono sempre degli altri dreadknight che vengono caricati dai jade lancer e dal celestian lion che comunque può tappi quindi comodo qua ci sono dei cold one night che katai avrebbe bisogno di portare gli aceri un pelino più in qua anche perché adesso queste sorelle del massacro e witch elves sono tornate stanno facendo bene è tornato una cavallina un cavallino di jade lancer ma zaoming sta prendendo gli schiaffi da elebron non capisco perché non si sia trasformato cioè alla fine dragon breath lo posare trasformato vola hai la cura soprattutto non sei più fanteria quindi elebron non credo che abbia più infatti non avrebbe più il bonus antiche infanterie adesso si arriva leone è una cav che invece va a caricare vediamo le sisters o le witch elves la fanteria di katai comincia ad essere uccisa vediamo se può contare sulle sue single entities la witch elves ha tirato spiritlich sul celestian lion che deve fuggire al più presto qui le cavallino stanno andando in rotta vediamo se torneranno sul fondo qui c'è una cav di dark riders che potrebbe essere utile per accompagnare fuori un po di roba qui è un altro bel bombardamento sicuramente per portare via un dread knight sicuramente queste unità qui sono le più fastidiose ma vediamo come anche qui ne siano rimaste ancora sono quelle che possono poi impensierire zaoming e il celestian lion che invece possono vedersela bene con le witch elves e tutto il resto katai deve un attimino riposizionarsi e raggrupparsi con quelle 3 4 unità che è rimasta in modo che le sue single entities combattano in mezzo qui è un tentativo disperato di salvare l'assomante posso capirlo ma ci sono comunque dei dread knight in mezzo che hanno ancora ma parte un bellissimo bombardamento in questo caso sicuramente fa del danno discreto alle witch elves e katai non aveva niente da perderci zaoming sta per attivare la sua trasformazione anche perché è molto basso di vita qui è andato tutto in route ottimo con l'urlo del leone immagino che ha tempo e a questo punto le single entities si scagliano tutte su elebron le single entities che hanno tirato un schiaffo infinito all'alchimista io mi sarei occupato di questa roba qua però posso sbagliare io ragazzi i giocatori qui sono sicuramente bravissimi e solo che elebron qui con il supporto del cold one knight mi fa molto paura per la posizione di zaoming soprattutto se adesso tornano i knight of e bonclaw e la strega della moto può cominciare a tirare ecco la prima spell di zaoming anche perché è l'unico mago rimasto e vincono i dark elf diciamo che il fatto di pagare per tre maghi sicuramente ha portato la lista di katai ad essere più ad essere più stretta i zaid warriors secondo me erano troppo pochi perché comunque i dark elf hanno fanteria che ti può gestire bene i zaid warriors due arcieri fanno pesta di andare in route e non fanno assolutamente un tubo soprattutto contro quello che vuoi diciamo che risparmiare un po' sui zaid lancer e portare qui magari zaid warriors con crossbow avrebbe sicuramente aiutato avevi qualche cav leggero in più per accompagnare fuori le witch elves la mappa era anche abbastanza larga forse un cannoncino ci poteva stare carina l'integrazione tra tutte le spell ma un po' sotto tono forse ci sta comunque una lista bella a vedere comunque katai per una volta giocare più o meno aggressivo di cavalleria queste cav qui a me non fanno impazzire altra parte abbiamo hellebron che ha fatto bene knight of fame e bonclaw che non si sono assolutamente ripagati come loro solito mentre i dread knight normali si il solario massacre hanno fatto bene come le witch elves il cold one knight hanno fatto bene hanno fatto le cav leggere detto questo 1 a 1 bisogna andare alla bella terzo e ultimo sfida match sull'1 a 1 abbiamo green one con i suoi green skin contro sipa con danni del caos quindi vediamo sostanzialmente un nutrito numero di pelle verde da una parte e un nutrito numero di pelle verde dall'altra soltanto che dalla parte di qua abbiamo degli stagisti, dei lavoratori non pagati, dei tirocinanti chiamateli come vi pare e dall'altra parte invece abbiamo una solita massa verde pronta ad arrivarti in fronte e a picchiarti finchè non ne stacca front end di goblin solita squig dietro abbiamo dei pump wagon mamma mia quanto sono carini guardate che carini che sono i pump wagon carini eh belli li vedete che vi attraversano la strada doppia unità di pump wagon probabilmente per gestire un po' tutta la fanteria poi abbiamo solo due cav ma abbiamo tre unità di troll ovviamente sempre un'unità di schermaglia che può sempre fare bene la troll egg con spirit leach e biuna anche perchè biuna se per caso qua viene portato un fire glaive lo cancella dalla faccia della terra in questo caso credo che verrà usato spirit leach non tanto sui due caster perchè non so se quello normale si rigenera anche lui grazie a dio no ma lui sicuramente si quindi forse prima va eliminato il mago del fuoco e biuna lo si può usare su una fanteria di nani del caos un po' sprecata ma si toglie comunque un'unità problematica la front line sicuramente alla lunga verrà gestita meglio dai nani del caos ma con l'intervento degli stone trolls i green skin possono fare decisamente decisamente male veniamo adesso ai nani del caos che hanno i bull sent horrendous della fama a me sinceramente piacciono quelli con grande arma cioè anti large e ap questi sono anti infantry e ap però hanno delle state talmente alte che funzionano come anti large in più hanno un tiro che è molto forte e hanno anche guardian quindi hanno il loro ruolo se proteggono i due tori poi abbiamo il demone della forgia qui la lingua credo il tenino dei nani del caos quello che spara danni da fuoco e che abbassa la leadership può essere interessante contiene green skin orchi lavoratori hobgoblin sneaky geeks questi a me non piacciono tutti gli hobgoblin sono molto costosi per quello che devono fare non sono né chaff né unità resistenti come i nani del caos qui abbiamo poi una fronte di nani e di goblin che ricevono comunque un un buff alla leadership quando combattono vicino ai nani entriamo in partita allora si stanno entrambe riposizionando comunque il l'urco vuole andare aggressivo su un fianco è contento che la mobility sia tutta da questa parte perché è vero che il trenino può fare un po' quello che gli pare però è anche vero che le sue cariche su questa roba qui sono assolutamente graditissime può già ingazzare questa fanteria qui porta via gli urchi e fa arrivare il pub wagon che lanciano i funghetti esplosivi credo non lo so sono interessanti arriva anche un goblin labrass mi piace come abbia portato fuori queste unità qui che verranno gestite con la mobility per il resto ha di nuovo il trenino che è andato in rampage adesso verrà gestito da troll e da orchi selvaggi di cavalca zinghiali no non altro niente sono i bull centaur della fama subito li vuole eliminare parte un burning head perché abbiamo sia mago del fuoco con burning head e nient'altro poi abbiamo invece il profeta che ha doom and darkness quindi anche qua una bomba alla leadership seconda volta che vediamo una bomba alla leadership credo che sia stata usata su questi orchi qui su questi troll qui che tra il debuff del fuoco e il debuff di burning head sono stati mandati a meno 30 di leadership che verranno accompagnati fuori quindi lato sinistro che lato sinistro degli orchi che viene vinto dagli orchi lato destro che viene vinto dai nani del caos è anche vero che non hanno possibilità di inseguire più di tanto questi magari non torneranno ma questi sono appena ritornati a questo punto il centro basta che regga un altro po' vedete come a parte un biuna su quelli che sono dei caos dei caos caos dark warrior della troll egg questo duo di single entities può essere problematico vediamo se uccideranno la lag non credo che i nostri stalkers portano un po' di ap qui parte un altro burning head per tirare giù la leadership agli stontons bella giocata qua però gli ha fatti ritornare purtroppo qui verranno uccisi i salvage orchi e gli orchi alla fine ma se riescono a portarsi via il bull center almeno un minimo un altro po' al centro gli orchi hanno decisamente vinto grazie anche al piuna sinistra hanno vinto vinto nel senso perché quello che è rimasto è molto inutile adesso devono semplicemente portare questa roba qui qui tutta la roba che ha qua il caos dark ormai è fuori posizione per supportare le sue single entities che sono qui al centro circondate da massa a parte un altro piuna credo no un doom and darkness anche perché piuna ce l'ha soltanto l'orco sono tornati gli altri troll sono tornati le cavine da schermaglia qui vengono mandati sti goblin a tenere bloccate le unità ancora per un po' gli squig si occupano che non tornino i nani guerrieri probabilmente caricheranno questi adesso i pump wagon fanno lo stesso e a questo punto avendo mandato lo stregone e il profeta entrambi in fuga può andare a caricare il resto della roba dove i bull sent out rendersi benché molto forti sono ancora alle prese con dell'alta massa dei orchi silvagi cavalcacinghiali il supporto di fanteria probabilmente li lascerà a breve e quindi prenderanno molto danno dalla fanteria questa fanteria qui potrebbe essere gestita da anche solo i pump wagon qui stanno cercando di gestire il trenino con gli spirit leach della massa intanto l'importante è non farlo sparare in modo che non dia debuff alla leadership arriva il profeta che si è ricaricato di vita perché si ricarica ogni volta che viene castato una spell un altro spirit lì sull'iron demon iron demon che è sicuramente pezzo che deve sopravvivere il nano del caso deve andare ad aiutare l'iron demon con anche i bull sent out di asciutto perché tutto il resto è troppo lontano troppo fuori posizione tutta la mobility che è rimasta ai green skin può fargli malissimo come anche qui guardate arrivano gli squig che caricano in dark warrior con i goblin anche qua è vincibile per gli orchi qui gli orchi comunque sono messi a dura prova perché la loro roba non ha tantissima massa l'iron demon ha ancora 1800 punti vita i cosi come si chiama hanno ancora un soffio a testa credo un soffio a testa quindi può essere interessante appena verrà tutto blobbato bisogna vedere se ne vanno il tempo facciamo che un soffio su questi troll non avrebbe fatto schifo il trenino con la sua massa infinita cerca di mandare in rotta più che può la roba carica gli orchi selvaggi ma c'è sempre il night goblin indietro pronto a dargli quella stoccatina nel culetto anche se è un treno quindi il culetto non ce l'ha i bull qui stanno facendo il meglio che possono picchiando ah ma andando in fuga i troll sono rimasti ancora i bull sent out renders eh comunque i nani del caso stanno riuscendo a portare qualcosina se si ritirano e salvano l'iron demon dagli ultimi schiaffi del goblin war boss esatto se fanno queste cose qui possono gestire comunque tutta la chaff che è rimasta agli orchi andiamo a bull center qui ancora a fare un po' i cavoli loro viene accompagnato fuori il troll una volta che incomincia a scendere di parecchia la massa degli orchi è vero che c'è ancora un hug e il night goblin è che la roba è molto bassa ma devono ripulire un po' da tutto questo cos'è un doom and darkness? si meno 16 leadership non capisco perché è tirato così spirit leads che cura ancora una volta il demon smith no cura esatto il profeta ma profeta che comunque ha adesso 3000 punti vita a parte il soffio un po' sprecato ma che forse manda in fuga gli squiggert eh a sto punto forse un soffio o su un hug o su altra roba sarebbe stato utile qualcosina sta tornando ma è lontanissimo infatti è un bunny head che prende in pieno gli squigg per tutta la lunghezza ma si ostina a non andare in in rampage scusate in fuga grazie anche a get back here e i bull center sono in route questi castdorf sono stati bloccati prima di ridare il sopporto qua e a questo punto c'è sostanzialmente una rissa di massa sul sullo stregone del fuoco e una volta che questo andrà in fuga il profeta della morte si troverà da solo con spirit leads sopra è vero che adesso spirit leads lo cura ma soffio sprecatissimo e io credo che sia finita qui credo che sia finita qui perché adesso l'orco si occuperà sicuramente di accompagnare fuori questa roba che non è neanche troppo lontana e lo stregone sta già blinkando ed è gg gg 2 a 1 per green one mamma mia entrambe le liste se le sono combattute forse il nano del caos si è aperto un po' troppo quindi non ha potuto supportare appieno le sue singole entities che comunque guardate 2.000 1.900 2.300 1.200 il resto non ha fatto veramente un tubo questi hanno fatto veramente tutto quindi con il supporto della ciaffa avrebbero sicuramente svoltato il night goblin warboss ha fatto il delirio al lato lag pure i troll hanno fatto bene quelle che sono rimasti le cav molto meno i pump wagon no i squiggled gli archivi i goblin warb archer molto bene quindi da entrambe le parti sono le singole entities che hanno portato a casa la partita il maggior danno il dps detto questo io vi invito come al solito a lasciare un mi piace lasciare un mi piace un commento ed iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo match arrivederci